Vai Pasquino, vai! C'è tanto rammatico per il risultato, però non per la prestazione, perché è un'ottima casertana in bottiglia di giovani che ha costretto il riporno ai calci di ricordo. Sì, oggi abbiamo disputato un'ottima prestazione. Siamo un po' dispiaciuti per il risultato, perché oggi non è che si è vista tutta questa differenza di categoria. Meritavamo di più, ci tenevamo a passare il turno, purtroppo però i calci di ricordo sono una lotteria. Un po' di rambarico per come è andata, si poteva passare il turno tranquillamente. Oggi, sia come mentalità che come gioco, abbiamo fatto davvero bene. Però non ci dobbiamo accontentare, il lavoro è ancora tanto e mai ancora tanta strada. M. Lucarelli ha detto che ammira questa squadra, l'ha messa in difficoltà e che nel campionato di Serie C vede come protagonista è la casertana e il Catanzaro. Siete d'accordo su questo giudizio? Diciamo che abbiamo fatto un'ottima gara. Se continuiamo di questo passo, possiamo dire che la nostra è un campionato di vertice. Aspettiamo ovviamente qualche rinforzo perché oggi sono entrati parecchi 2.000, però hanno fatto anche la loro bella figura. Ce l'auguriamo di fare un campionato di vertice e di sperare l'anno prossimo di stare qui. Anche qui a Livorno sono arrivati tanti tifosi a seguirvi, a vincitare. Cosa possiamo dire a questi ragazzi? Noi li ringraziamo perché sono sempre e dovunque a sostenerci. Spero che lo spettacolo sia stato degno del sacrificio che hanno fatto dopo tanti chilometri. che hanno fatto sì. Ok, grazie a tutti.